Allora, un palco per la scuola mi sembra di capire, di intuire da questa schermata o mi sbaglio? Buongiorno, lei è Bruno Lovadina di Bel Teatro di Padova e state organizzando questa serie di spettacoli un palco per la scuola organizzati proprio con le scuole, giusto? Esatto, dopo due anni finalmente siamo ripartiti e siamo ripartiti nella forma più bella e più entusiastica perché abbiamo grandi spettacoli, una grande partecipazione di pubblico e una grande curiosità da parte delle insegnanti che non sono riuscite ad entrare in questa edizione perché la voglia è tanta, quindi Chioggia fortunatamente si dimostra ancora una città che ha fame di teatro e di cultura. Sia da parte del pubblico ma anche da parte dei ragazzi la volontà di esprimersi? Assolutamente sì, i numeri parlano da solo perché anche oggi avremo più di 30 ragazzi in palcoscenico la curiosità che loro stanno esprimendo ce la regalano attraverso la loro disponibilità. E allora siamo qui in sala stampa dello stadio Albertino Ballarin insieme a mister Antonio Andreucci per quello che diventerà una consuetudine speriamo anche settimana prossima e poi ovviamente anche nella prossima stagione insomma quello che sarà la presentazione della partita che la squadra dovrà affrontare appunto ricordiamo domenica alle ore 16 il playoff semifinale contro il Campodarsigo si riparte da domenica e da quella partita contro l'Arzegnano che però ormai è passata in archivio. È normale che la partita con l'Arzegnano è stato il finale di una stagione esaltante è una partita che abbiamo giocato veramente fino all'ultimo secondo così come è stato il campionato è passato l'Arzegnano, io in settimana ho parlato con la squadra, i ragazzi si sono allenati bene devo dire la verità, chiaramente all'inizio c'era la delusione perché è stata una partita da una parte molto sentita, esaltante, sofferta che ci poteva regalare una grande soddisfazione dopo una grande rincorsa, però nel calcio bisogna guardare avanti, bisogna saper girare pagina e andiamo a affrontare i playoff che devono essere un regalo per noi perché già la partita di domani è una partita difficile contro una squadra che si è conquistata i playoff in maniera giocando bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti La polizia locale di Venezia ieri venerdì 20 maggio in un servizio di contrasto a reati predatori ha seguito due borseggiatori che avevano tentato un primo borseggio ai danni di un anziano e secondo ai danni di una coppia di turisti colpi non andati a segno da parte di individui già noti dalle forze dell'ordine al cui seguito si trovava una coppia uno dei due ladri è stato arrestato dati suoi precedenti ed ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza del comando della polizia locale il secondo ladro è stato denunciato a piede libero la coppia che era con loro si è dileguata tra la folla il giorno prima invece agenti in borghese del nucleo operativo hanno invece tratto in arresto uno spacciatore sorpreso a vendere una dose di stupefacente o minore nei pressi della stazione di Mestre il pusher a suo carico ha già quattro denunce per spaccio e un arresto negli ultimi cinque anni oltre a precedenti per altri reati domani pomeriggio all'auditorium San Nicolò di Chioggia a partire dalle 17.30 si terrà il concerto per arpa di Gerniai Misic vincitore del premio nazionale delle arti 15esima edizione nell'ambito della 48esima stagione concertistica della gioventù musicale italiana presenterà un repertorio variegato l'arpa non è uno strumento semplice non sono molti gli arpisti soprattutto maschili che si pongono sulla scena pertanto si tratta di un'occasione unica averne uno in teatro a Chioggia da non perdere l'Ulse 3 contro il mal di schiena il 25 maggio nella giornata gli ospedali con i bollini rosa offriranno una serie di servizi diagnostici e informativi gratuiti dedicati al mal di schiena questo solitamente è riconducibile a cause di origine meccanica ma può essere anche di natura infiammatoria lo scopo dell'iniziativa quindi è quello di sensibilizzare la popolazione femminile che è la più colpita in tutte le fasce di età verso una corretta conoscenza della problematica presso l'ospedale di Venezia in occasione della giornata in questi giorni fino al 25 maggio è attivo un servizio di informazione e consulenza online che consentirà di inviare via mail requisiti relativi al focus mal di schiena al femminile prevenzione di agnosi precoce nelle fasce diverse di età della donna l'iniziativa gode del patrocinio della società italiana di reumatologia SIR e dell'associazione reumatologhe donna Redo